Ciao a tutti bentornati sul mio canale Allora Oggi sono molto 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 emozionata Perché? Perché voi sapete Quanto io ami i ragazzi di Eterea Cosmesi E oggi sono qui A fare il video di lancio Per la loro super mega Iper novità Allora Vi ho ingiustamente spoilerato Su Instagram ieri Perché comunque non stavo veramente nella pelle E secondo me è un'uscita Che caratterizza il beauty italiano In un modo pazzesco Vabbè vi sto tenendo troppo sulle spine Che cos'è la super novità Eterea Cosmesi Intensive Antiox Concentrate Questa è una nuova linea Eterea La linea Intensive che prima non esisteva E questo è il loro appunto Concentrato Antiox Dunque Pack esterno Super creato È una scatola rigida Come vedete blu Abbiamo dietro le caratteristiche tecniche E l'inci Che adesso guarderemo insieme nel dettaglio Le certificazioni La durata e gli ml Apriamo la scatola E all'interno abbiamo questo gioiello Erogatore con contagocce 30 ml In vetro satinato La texture di questo concentrato È lattiginosa Ma si eroga con facilità Vedete dal contagocce Il colore giallo acceso Giallo arancio acceso Ha una spiegazione Che adesso vi darò La fragranza è piacevolissima Ma non prepotente Dunque Che cos'è? È un concentrato È un siero attivo concentrato E che cosa fa? Un po' il nome ve lo svela No? Si chiama Antiox Concentrate È un concentrato Antistress ossidativo Va a lavorare tutti gli aspetti Che generano invecchiamento precoce Quindi Fumo Inquinamento Stile di vita stressante Alimentazione sregolata Tutte quelle che sono le cause Che vanno appunto A generare l'invecchiamento E Con un concentrato appunto Di principi attivi Degno di Eteria Cosmesi Sinceramente parlando Vediamo All'inci di questo prodotto Quindi Come sempre Sapete che Eteria ha ragione È in 100% attivo Quindi la base non è mai acqua Ma è sempre fatta da distillati E in questo caso Partiamo già con un'acqua di tè Poi abbiamo acqua di rosa E acqua di fiordaliso Abbiamo subito dopo Le cellule staminali della vite Poi andando avanti Abbiamo l'acido tiottico E abbiamo l'ubiquinone Quindi coenzima Q10 Ecco il perché Del pigmento di questo prodotto È ricchissimo in coenzima Q10 L'ubiquinone ha questa caratteristica Questo colore caratteristico Essendo presente in altissime quantità Genera poi Naturalmente la pigmentazione Della formula Abbiamo poi Mirtillo Abbiamo l'estratto di tè Abbiamo l'estratto di rosa canina Abbiamo l'aloe Il burro di karité Abbiamo il fico d'india Abbiamo il melogano Abbiamo la vitamina E acetata E poi abbiamo il lampone Abbiamo la carota Abbiamo lo squalene Abbiamo il gamorizzanolo E proviamo delle frazioni insaponificabili Dunque Io vi leggo un attimo il claim aziendale Siro concentrato contro i danni da stress ossidativo Indotti da raggio UV Inquinamento Fumo Affaticamento Agisce contro i radicali liberi Migliora visibilmente la qualità della pelle Lavorando sulla prevenzione dei segni da invecchiamento E su rughe già esistenti Come vi dicevo Un ince assolutamente di ricerca Hanno messo all'interno degli antiossidanti ad ampio spettro Potentissimi Nonché appunto Vitamine Emolienti Ha proprio La firma no? Di etereo e cosmesi Questo concentrato E come si utilizza? Questo va a potenziare Tutto quello che noi gli mettiamo sopra È un vero e proprio siero Che crea una protezione ad ampio spettro E si matcha a qualsiasi trattamento Noi facciamo già Quindi Che la nostra crema di trattamento Abbia una preponderante di acido ialuronico Piuttosto che di vitamine Piuttosto che di quello che volete voi Il siero si matcha perfettamente E ha un grandissimo plus Può essere utilizzato sotto il solare E infatti Allora Io negli anni vi ho parlato un po' Di miei sieri preferiti da utilizzare sotto il solare Quindi il floretin CF di SkinCeutical L'Advanced Nutripera di Estée Lauder Il Codalibino Source Ma qual è il problema? Uno agisce contro lo stress ossidativo Uno contro le macchie E uno contro la perdita d'acqua Questo agisce lungo tutti questi tre fattori Combatte tutte queste tre problematiche In uno soltanto Ovviamente è riduttivo Di metterlo sotto il solare Perché è un trattamento Da fare 365 giorni all'anno Ma utilizzato al di sotto Della nostra protezione solare Ne potenzia l'azione Sia contro il raggio V Che contro tutto appunto I danni da stress ossidativo È un concentrato ricchissimo Ricchissimo di principi attivi Io sono Ho potuto vedere da vicino Le varie fasi della produzione Vi posso garantire che È un'eccellenza in un goccetto Io non vedo l'ora Che voi possiate provare Questo siero Che vi dico già È disponibile da questo momento E quindi vi lascio giù in info box Il link diretto Al sito di Eteria Dove potrete acquistare Questo concentrato Io sono fierissima Che sulla scatola Ci sia scritto Made in Italy Perché è quello che è Questa è un'eccellenza italiana Ed Eteria è un'eccellenza Del Made in Italy Devo dire Voi sapete quanto io amo La Lina Lux Che è la precedente uscita di Eteria Come amo tutti i loro prodotti A catalogo Ve li consiglio da tantissimo tempo Per me loro sono veramente Un'eccellenza Per quanto riguarda L'ambito della skin care E anche dell'air care Perché tra l'altro fanno Dei capelli Dei prodotti per capelli Favolosi Questo L'Intensive Antiox Concentrate È veramente L'ennesimo L'ennesima dimostrazione Di una grande azienda Che è stata in grado Di fare un gran prodotto E credetemi Quando lo proverete Capirete di cosa sto parlando Già dopo Dopo i primi Due o tre giorni di utilizzo Si inizia a vedere La pelle Molto più luminosa Molto più uniforme Il colorito è più omogeneo È veramente un prodotto Che dà un effetto mise in butée Nell'arco di pochissimo tempo Ma è altamente curativo E preventivo Nell'utilizzo costante Quindi Ovviamente Ve lo super consiglio Anche per quest'estate Quindi Per tutto l'anno E per l'estate Quindi insomma Spero veramente vi piaccia Per me è stato fatto Un grandissimo lavoro Quindi ancora complimenti A De Terea Cosmesi Mi raccomando Appena lo avrete provato Ditemi 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 Cosa ne pensate Perché ci tengo tantissimo Io appunto Vi lascio tutti i link Qua sotto Un bacione E al prossimo video E al prossimo video E al prossimo video